e non vedi a farla a letto? no una passaggiatina per digerire le uova ma per caso fa freddo? mi fai video quando ci sono le tormenti di neri e il bruso va troppo forte per noi brava vale cos'è quel sacco di merda lì? ah è jack non lo possiamo lasciare giù un po' una domenica è una passeggiata semplice per andare a mangiare siamo in ritardo già di 20 minuti sulla prenotazione a camminare non sono tanto bravi ma qui siamo degli specialisti ma che facciamo quel grand'angolo? la polenta uncia del marco come era? cosa ho mangiato? gli amici del kripa allora abbiamo trovato il brusa che da piano in rancio da piano rancio ha preso la macchina ci ha portato qua però aveva fretta per andare le coniglie non ci ha portato fino in cima ci ha lasciato giù a basso così dobbiamo fare il muro di sormano adesso un bastardo però il tuo amico bastardo brusa è incredibile che siamo riusciti a fare anche il muro di sormano oggi possiamo andare a casa adesso? non lo so due fregature in un giorno solo sono tanti vediamo cosa ci riserverà questa piccola bestia? la munita sulla macchina che fa giù il sbrugno guarda colma allora ciao 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 Grazie.